Siamo lodati Gesù e Maria, carissimi ragazzi, benvenuti, bentrovati a tutti voi, grazie per la vostra presenza e partecipazione. Oggi è mercoledì della Settimana Santa e non so se lo sapete che è anche uno dei giorni più tristi di tutto l'anno, perché se è vero che sappiamo, diciamo che il triduo sacro, giovedì, venerdì e sabato, sono caratterizzati da certi eventi, l'istituzione dell'Eucarestia, l'ultima scena, poi giovedì notte l'agonia del Gezzemani, poi tutta la passione, tutta la notte, la mattina del venerdì fino al pomeriggio, la morte in croce, poi il sepolcro, il sabato del silenzio e poi la Pasqua. Il mercoledì però, non so se lo sapete, è il giorno in cui Giuda consuma il tradimento, un tradimento maturato, maturato lungo il tempo, fatto di tanti momenti, diciamo, di premeditazione, però il giorno in cui viene consumato l'abominevole delitto di tradire il figlio di Dio è proprio il mercoledì. Infatti è per questo motivo che oltre al venerdì tradizionalmente si utilizzava anche il mercoledì come giorno di digiuno, fioretti o cose del genere, ecco, proprio per questo, perché si fa memoria di uno degli abomini più grandi che la storia umana abbia mai potuto registrare, un uomo che tradisce Dio e non è un uomo qualunque, è uno scelto in modo speciale da Gesù per essere uno degli apostoli, quindi i più stretti collaboratori della sua missione. Va bene, ci ho detto, cari ragazzi, io desidero parlarvi del soggetto più sacro di cui si possa parlare, della passione di Gesù Cristo, di nostro Signore, approfittando del momento particolare, speciale nel quale ci troviamo. La settimana santa a poche ore dagli eventi drammatici di cui parliamo, di cui parleremo. Come farlo? Io in qualche modo lo faccio attraverso quegli strumenti che più hanno aiutato me a entrare nella passione del Signore. Spero che la meditazione di questa sera possa essere complementare e non sostitutiva alla visione del film La Passione di Mel Gibson. Penso che tutti l'abbiate visto, ma andrebbe visto ogni anno, soprattutto in questi giorni. Per qualcuno può essere duro, anzi per tutti noi è duro, ma io diciamo vi chiedo, veramente ve lo chiedo, ve lo suggerisco in modo molto energico, molto forte, accorato, rivedetevi, guardatevi di nuovo quel film. Perché ancora più delle riflessioni, ciò che più è forte e potente, determinante per capire, per entrare, diciamo, nella verità della passione del Signore e della sua morte, sono i fatti reali, che si imprimono poi in modo così forte attraverso le immagini, ecco, di quel film. Quindi lo so che è dura, ma pensate, se è dura guardarlo, pensate quanto è duro, quanto è stato duro, quanto è stato terribile per Gesù. Quindi guardatevi il film. Insieme al film io ho letto negli anni trascorsi numerose cose, chiaramente, di spiritualità, tra cui sulla Passione di Gesù. Non ho trovato da nessuna parte, dico da nessuna parte, spiegazioni, approfondimenti, non so come dire, espressioni così forte come quelle che si trovano negli scritti di Maria Valtorta. Nulla di più efficace, penetrante e capace di scuotere. Anche io inizialmente ero abbastanza scettico e carico di pregiudizi su questi scritti, per tante cose che circolavano. Poi ho fatto quello che hanno fatto in tanti, e cioè chi leggerà capirà. Così anche io ho letto e ho capito, come milioni di altre persone tra passato e presente. Dico veramente milioni di persone in tutto il mondo. E con questi milioni di persone condivido la ferma convinzione che, come disse quel grande francescano, che fu il beato padre Gabriele Allegra, beato Gabriele Allegra, traduttore della Bibbia in cinese, una figura straordinaria, notevolissima, Digitus Dei Estic, qui c'è il dito di Dio. Uno legge e dice, no, qui c'è il dito di Dio. Non può essere. Che mente umana abbia fabbricato queste cose. Quindi dopo anni e anni di polemiche, diciamo, su questi scritti, anche errori che sono stati commessi sulla valutazione di questi scritti, ora dopo anche la convalida di studi scientifici, scientifici che dimostrano l'attendibilità, la coerenza delle cose scritte in quest'opera con la realtà storica, archeologica, geografica, possiamo tornare a quel primo sapiente giudizio che fu dato dal grande Papa Pio XII, che prese visione dell'opera e disse ai padri, che erano direttori di Maria Valtorta, direttori spirituali e curatori dell'opera, pubblicatela così come sta. Chi legge capirà. Cosa capirà? Che appunto qui c'è il dito di Dio, o meglio potremmo dire la voce del Dio fatto uomo. E pensate sentire la voce del Dio fatto uomo che ci narra la sua passione. In ogni caso, io mi riferisco a questi scritti rispettando il giudizio della Chiesa, quindi non affermo l'origine soprannaturale, ma dico che insieme a milioni di altre persone in tutto il mondo, personalmente, credo che in essi parla Cristo. E anche chi non credesse, li vedesse come insegnamenti di sapienza umana o almeno ispirati, semplicemente ispirati dall'alto, in ogni caso il contenuto è straordinario e muove a profonda conversione. Queste cose io ve le ho dette perché era doveroso dirlo, no? In modo che sia fatta una un'introduzione doverosa non per ammorbarvi, lo dovevo dire, perché siamo in una conferenza pubblica, una conferenza che poi andrà anche pubblicata, quindi arriverà anche ad altri, è così, diciamo, mi paro, ecco, perché quando si parla di questo argomento iniziano subito poi critici, ma io alla fine ho detto, io devo parlare a questi ragazzi della passione di Gesù Cristo. A me interessa che come migliaia di frecce hanno raggiunto il mio cuore e mi hanno, sì, direi anche stravolto in positivo entrando e meditando nella verità della passione del Signore attraverso questo strumento prezioso io desidero che anche a loro sia offerto. Ecco. Bene, allora Sant'Alfonso delle Guori come tutti i grandi maestri spirituali ci dicono che non c'è soggetto di meditazione più potente per la santità, per la santificazione di una persona, di un'anima, che la passione di Gesù. Dice Sant'Alfonso delle Guori Da che mai i santi han preso animo e fortezza per soffrire i tormenti e i martiri le loro morti se non dalle pene di Gesù Crucifisso dalla meditazione, dalla contemplazione di Gesù Crucifisso e quindi dal desiderio di corrispondere al suo amore che è un amore vittimale, è un amore di sangue. Chi mai potrà dire che patisce a torto guardando Gesù che è schiacciato per le nostre iniquità? Chi potrà mai dire che il suo soffrire è troppo guardando quello che ha patito Gesù? Perché è bello il nostro Dio non solo perché si è incarnato ma perché si è incarnato e ha vissuto una vita all'insegna della sofferenza della povertà dell'umiliazione dell'incomprensione degli schieni ha vissuto una vita che nessuno può dire il nostro Dio non ci capisce perché lui per primo ha preso su di sé il peggio della natura umana cioè le cose più in qualche modo brutte difficili e le ha redente perché le ha vissute con la sua natura umana le ha patite ma con la sua persona divina le ha sconfitte quindi nulla ci può veramente distruggere perché il nostro Dio ha preso su di sé tutto anche le tentazioni no? appunto come sappiamo tutto ha preso su di sé un'eremita pregava a Dio di insegnargli che cosa potesse fare per amarlo perfettamente dice sempre Sant'Alfonso il Signore gli rivelò che per giungere al suo amore perfetto non vi era cosa più adatta che meditare spesso la sua passione diceva Sant'Agostino che vale più una sola lacrima guardate questa cosa sembra assurda ma la diceva Sant'Agostino vale più una sola lacrima sparsa in memoria della passione di Gesù che un pellegrinaggio fino a Gerusalemme a piedi e un anno di digiuno a pane e acqua sembra un paradosso sembra un'iperbole esagerata no? ma c'è una verità in quello che dice Sant'Agostino perché pensando a Gesù crucifisso alla sua passione ai suoi dolori non è possibile non infiammarsi di amore di amore per Dio e l'amore di Cristo ci spinge come dice San Paolo quando c'è l'amore di Cristo che spinge si può fare qualsiasi cosa tutto si può fare per Lui anche le cose più difficili nulla ci può fermare ci può arrestare nel fare il bene nulla quindi accende più in noi l'amore di Dio che pensare all'amore che Dio ha avuto per noi in quella modalità terribile che è la sua passione Gesù è amato da pochi perché pochi sono quelli che considerano le sue sofferenze quello che ha patito per noi noi in verità non ci pensiamo diciamoci la verità non ci pensiamo questo è il segreto dei santi che ci pensavano continuamente e San Francesco in questo senso era è stato un esempio dei più straordinari di come ci si fa santi grazie al pensare sempre alla passione di Gesù egli piangeva continuamente a tal punto che aveva perso la vista quasi del tutto tanto che fu poi operato perse la vista una volta lo trovarono che stava gridando e piangeva e gli si chiese ma cosa fai perché piangi perché gridi in questo modo e che volete che io abbia rispose piango i dolori e gli oltraggi dati al mio signore e cresce soggiunge la mia pena nel vedere che gli uomini ingrati non lo amano e vivono dimenticandosi di voi cari ragazzi proprio per non dimenticarci di lui approfittiamo di queste preziose ore e immergiamoci col tempo che abbiamo il più possibile quindi io vorrei fare una duplice cosa sempre attraverso gli scritti di Maria Valtorta uno una presentazione di quello che sono state le sue sofferenze almeno le cose più importanti i frangenti più importanti come l'agonia del Gezzemani e tutta la serie di pene morali e fisiche che Gesù ha sofferto dall'altro se ne avremo tempo illuminare alcune figure che hanno avuto chiaramente ruoli all'interno della passione riflettendo sulle quali verranno fuori tutta una serie di insegnamenti molto importanti in particolare Maria Santissima Giovanni Pilato Giuda Poi secondariamente i farisei i scribi ecco però solo un accenno allora leggerò quasi solamente intervallerò ogni tanto con qualche riflessione allora partiamo dal Gezzemani dice Gesù per chi crede la sofferenza della mia agonia spirituale tu l'hai contemplata nella sera del giovedì mi hai visto le fasi crescenti di questo trauma culminante nell'effusione sanguigna provocata dallo squilibrio circolatorio causato dallo sforzo di vincermi e di resistere al peso che mi si era battuto sopra più l'ora dell'espiazione si avvicinava e più io sentivo allontanarsi il padre sempre più separato dal padre la mia umanità si sentiva sempre meno sorretta dalla divinità di Dio Gesù è rimasto sempre Dio mai ha perso la visione beatifica perché altrimenti avrebbe perso l'essere rimanere persona divina ma per un mistero di dolore di prendere su di sé proprio tutti i peccati degli uomini ha così tanto occultato nascosto la sua divinità da sentirsi privo della divinità da sentirsi privo dell'amore della presenza di Dio perché doveva provare anche questo capite non è che lui ha perso la sua divinità o la visione beatifica visto che è persona divina però ha vissuto come se fosse così per provare il dramma più drammatico degli uomini che è quello di essere lontani da Dio e quando è lontano da Dio uno che non ama Dio non ne soffre tanto ma quando è lontano da Dio chi ama Dio allora questo è tutto un altro è tutta un'altra cosa infatti la sofferenza più grande dei santi non erano tanto le sofferenze che potevano avere le umiliazioni oltraggi ma quando Dio per farli provare il più possibile quello che ha provato lui gli sottraevano la sua presenza e quindi sentivano questa notte oscura quella è la cosa più atroce perché per chi ama Dio sentire Dio assente sentire come diceva Santa Gemma il muro il muro di il cielo di bronzo cioè come se non penetrasse più nulla come se fosse interrotta la comunicazione tra cielo e terra tra Dio e l'anima è la cosa più terribile e se questo lo era per i santi immaginate per Gesù quindi diceva dice continua il Signore ne soffrivo in tutte le maniere la separazione da Dio porta con sé paura porta con sé attaccamento alla vita porta con sé languore stanchezza tedio più è profonda e più sono forti queste sue conseguenze quando è totale porta disperazione io l'ho provata tutto ho dovuto conoscere per poter di tutto per orare presso il Padre in vostro favore anche le vostre disperazioni oh io l'ho provato cosa vuol dire sono solo tutti mi hanno tradito abbandonato anche il Padre anche Dio non mi aiuta più nella sera del giovedì io solo so se avrei avuto bisogno del Padre ero uno spirito già agonizzante per lo sforzo di aver dovuto superare i due più grandi dolori di un uomo l'addio a una madre amatissima l'avvicinanza dell'amico infedele erano due piaghe che mi bruciavano il cuore una col suo pianto la madre l'altra col suo odio Giuda sarebbero bastate queste due piaghe a fare di me un agonizzante nella mia persona ma ero l'espiatore la vittima l'agnello l'agnello prima di essere immolato conosce il marchio rovente conosce le percosse conosce lo spogliamento conosce la vendita al beccaio solo alla fine conosce il gelo del coltello che penetra nella gola e svena e uccide prima deve lasciare tutto il pascolo dove è cresciuto la madre al cui petto si è nutrito e scaldato i compagni con cui ha vissuto tutto io ho conosciuto tutto io agnello di Dio fatemi fare un attimo una parentesi ragazzi vi farò un po' male stasera non mi rimproverate non è colpa mia è impossibile non stare male non soffrire in qualche modo non sentirsi trafitti da tutte le parti se si medita si ascolta o si vede in qualche modo veramente la passione di Gesù non possiamo rimanere insensibili quindi per forza fanno male certe cose ma fanno bene perché questo male ci apre a capire a capire veramente chi è Gesù per noi quanto ci ama cosa ha veramente fatto quanto vale il suo sangue quanto vale la grazia quanto terrificante è il peccato uno dei grandi più grandi problemi degli uomini anche dei cristiani forse anche nostro e non sentire il dramma del peccato e quindi magari caderci con una certa facilità magari non nei peccati gravi in quelli meno gravi ma comunque avere questa sorta di indifferenza ogni peccato è stata una tortura per Gesù e non quello solamente di coloro che erano presenti al momento in cui si consumava la passione ma come insegna da duemila anni la chiesa e ribadiscono anche questi scritti queste rivelazioni dal primo uomo il primo peccato fino all'ultimo uomo l'ultimo peccato sono stati la tortura di Gesù quindi c'è anche dentro il nostro peccato quindi non può non farci male qualche modo sentire queste cose ma ben venga questo tipo di penitenza che ci ammorbidisce il cuore ce lo trasforma e speriamo che ce lo apra a un amore appassionato a Gesù continua il Signore perciò è venuto Satana mentre il Padre si ritirava nei cieli era già venuto all'inizio della mia missione a tentarmi per sviarmi da essa cioè nel deserto no? quando quando lo tentò con la triplice tentazione ora tornava era la sua ora era l'ora della treggenda satanica non so se sapete cos'è una treggenda la treggenda è un raduno di diavoli di streghe di gente satanisti occulti che fanno i loro riti e che invocano i demoni la treggenda satanica perché dice sempre Signore torme e torme di demoni erano quella notte sulla terra per portare a termine la seduzione nei cuori e farli pronti a volere il domani l'uccisione del Cristo tutti ebbero il loro demonio accanto a chi aumentava l'odio come nei giudei che poi dall'osanna passarono al crocifiggilo crocifiggilo chi aumentava la malizia come nei scrivi nei farisei chi la pavidità la debolezza la paura come negli apostoli gli interesse proprio come in Pilato ognuno aveva il suo particolare diavolo tentatore che in quelle ore aveva particolare potere ma Giuda aveva Lucifero e io avevo Lucifero egli nel cuore io al fianco eravamo i due principali personaggi della tragedia e Satana si occupava personalmente di noi dopo aver condotto Giuda al punto di non poter più retrocedere si volsi a me incredibile straordinaria queste cose che stiamo leggendo dunque come furono tre le tentazioni del deserto tre furono le tipologie di tentazione ma reduplicate quintuplicate cioè intuplicate in potenza in questo momento il Gezzemani con la sua astuzia perfetta mi presentò le torture della carne con un verismo insuperabile e le fece vedere tutte i chiodi le spine i flagelli i sputi i schiaffi tutto anche nel deserto aveva cominciato dalla carne lo vinsi pregando lo spirito signoreggiò le paure della carne dunque la prima tentazione non funzionò passo alla seconda mi presentò allora l'inutilità del mio morire l'utilità di vivere per me stesso senza occuparmi degli uomini ingrati vivere ricco felice amato vivere per la madre mia per non farla soffrire vivere per portare a Dio con un lungo apostolato tanti uomini i quali una volta io morto mi avrebbero dimenticato mentre se fossi stato maestro non per tre anni ma per anni e anni avrebbero finito per immedesimarsi nella mia dottrina i suoi angeli mi avrebbero aiutato a conquistare gli uomini non vedevo che gli angeli di Dio non intervenivano nell'aiutarmi dopo Dio mi avrebbe perdonato vedendo la messe di credenti che gli avrei portato anche nel deserto vi ricordate ragazzi disse buttati giù poi i suoi angeli ti sosterranno tentare Dio tanto poi Dio ti perdonerà tu vai contro la sua volontà lascia stare vedi che è cattiva la sua volontà vedi che non capisce niente guarda ascolta 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 questi miei consigli che sono saggi lascia perdere la volontà di Dio lascia perdere poi ti perdonerà era un modo ancora più subdolo di usare la tentazione che usò nel deserto cioè tenta Dio non sottometterti alla sua volontà perché Dio non capisce quante volte ci provoca con noi in questo modo lo spirito cattivo dite la verità Dio non capisce la sua volontà no non può essere buona so io quello che è meglio per me lo spirito signoreggiò la tentazione morale lo vinsi con la preghiera e sono già due tentazioni vinte con la preghiera e adesso arriva la più terribile mi presentò l'abbandono di Dio egli il padre non mi amava più ero carico dei peccati del mondo gli facevo ribrezzo era assente mi lasciava solo mi abbandonava all'udibrio di una folla feroce e non mi concedeva neppure il suo divino conforto solo 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 in quell'ora non c'era che Satana presso il Cristo Dio e gli uomini erano assenti perché non mi amavano mi odiavano erano indifferenti questo è quello che Satana cercò di inculcare no? in Cristo è chiaro che Gesù non ha mai pensato che Dio il padre non lo amasse più ma in questa assenza della presenza del padre il terreno era fertile per questa tentazione forte di Satana fu terribile fu un momento che noi non possiamo capire non potremmo mai capire non potremmo mai capire il dramma e quello che fece sudare sangue il Signore e questo fu lo sforzo solo umano ancora più delle altre cose che abbiamo detto prima gli uomini mi odiavano erano indifferenti io pregavo per coprire col mio pregare le parole sataniche che gli giungevano a tutte le parti no? ma la preghiera non saliva più a Dio ricadeva su me come le pietre della lapidazione vi ricordate l'espressione di Santa Gemma il muro il cielo come bronzo impenetrabile quando si sente come staccata questa comunicazione ma se noi siamo in grazia di Dio ricordiamo sempre che non è mai staccata la comunicazione è come quando il sole è oscurato dalle nuvole le nuvole ci sono e non fanno vedere il sole ma il sole c'è così come il cielo di bronzo dall'altra parte c'è Dio anche se ora per una prova particolare ecco il Signore ha dovuto provare questo e quindi ricadeva le preghiere come pietre della lapidazione mi schiacciavano sotto il suo il loro peso mamma mia che espressione la preghiera che per me era sempre carezza data al Padre voce che saliva e alla quale rispondeva carezza e parola di Dio Padre per me ora era morta pesante in vano lanciata contro i cieli chiusi allora sentì l'amaro del fondo del calice il sapore della disperazione era questo che voleva Satana portarmi a disperare per fare di me un suo schiavo chi disperò Giuda e per questo si dannò non si dannò per il suo tradimento Gesù lo avrebbe perdonato se si fosse pentito veramente e fosse andato a chiedere perdono ma Giuda si disperò Satana lo portò alla disperazione e dunque al suicidio e fece di Giuda il primo e più perfetto dei dannati fatemi vedere se la registrazione è ancora attiva ok guardate qua adesso viene la parte più bella pensate voi avete visto il film di Mel Gibson provate ad abbinare queste cose diciamo che stiamo ascoltando con le scene allora verrà veramente un insieme straordinario di efficacia immagini e contenuti provate a immaginare quel momento in cui Gesù prega su Udallin in quell'orto Satana vicino a lui ho vinto la disperazione e ho vinto Satana suo creatore per servire Dio e voi dandovi la vita pensate pensiamo ragazzi ragazze fratelli e sorelle se in questo come dire in questa tentazione suprema in questa cosa terribile Gesù avesse mollato avesse detto no è troppo noi saremo ancora nei nostri peccati le porte del cielo sarebbero chiuse non avremmo la grazia di Dio saremmo perduti per sempre ecco perché qui leggiamo ho vinto Satana e la disperazione per servire Dio e voi dandovi la vita ma ho conosciuto la morte non la morte fisica del crocifisso quella fu meno atroce sentite qua e questo non è presente solo in questi scritti l'ho letto anche in Sant'Alfonso l'ho letto anche in altre pagine di scrittori sacri che più terribile ancora della morte in croce fu l'agonia del giovedì notte quindi non la morte fisica del crocifisso conosciuto ma la morte totale cosciente del lottatore che cade dopo aver trionfato col cuore spezzato e il sangue che si stravasa nel trauma di uno sforzo superiore al possibile e ho sudato sangue ho sudato sangue per essere fedele alla volontà di Dio capite perché ha sudato sangue Gesù adesso c'è tutto più chiaro e ora viene la cosa che ci fa piangere perché non si può non piangere davanti a questa cosa qua voi sapete che nei Gezzemani lo dice San Luca venne un angelo a consolarlo cosa fece quell'angelo in che modo poté consolare il Signore nella sua agonia l'angelo del mio dolore mi ha prospettato la speranza di tutti i salvati per il mio sacrificio come medicina al mio morire gli ha fatto vedere tutti coloro che avrebbero tratto beneficio e salvezza dal suo sacrificio mentre Satana gli faceva vedere tutti coloro per i quali sarebbe stato inutile e qui Satana non mentiva veramente per tanti sarebbe stato inutile il sangue di Cristo dice Sant'Agostino se tu vorrai Gesù ha versato il sangue per te se non lo vorrai Gesù non ha versato il sangue per te in che senso nel senso che quel sangue che pure l'ha versato per te non avrà effetto su di te quindi in questo Satana non mentiva ma mentiva nel non mostrare l'altra realtà cioè quella dei salvati ma nella sua agonia nella sua tenebra c'era bisogno di qualcuno esterno che potesse ricordare rammentare e mostrare al Signore questa cosa e fu l'angelo ognuno mi è stato una stilla di farmaco infuso i vostri nomi ognuno mi è stato una stilla di farmaco infuso nelle vene per ridare loro tono e funzione ognuno mi è stato vita che torna luce che torna forza che torna nelle inumane torture per non urlare il mio dolore di uomo per non disperare di Dio e dire che egli era troppo severo e ingiusto verso la sua vittima io mi sono ripetuto i vostri nomi io vi ho visti io vi ho benedetti da allora da allora vi ho portati nel cuore e quando è per voi venuta la vostra ora di essere sulla terra cioè di nascere io mi sono proteso dai cieli guardate che bello io mi sono proteso dai cieli ad accompagnare la vostra venuta giubilando al pensiero che un nuovo fiore di amore era nato nel mondo e che avrebbe vissuto per me oh miei benedetti conforto del Cristo morente la madre il discepolo e le donne pietose erano intorno a mio morire ma voi pure c'eravate i miei occhi morenti vedevano insieme al volto straziato della mamma mia i vostri visi amorosi e si sono chiusi così beati di chiudersi perché vi avevano salvati o voi che meritate il sacrificio di un Dio forse adesso mi darete ragione di questa scelta che ho fatto stasera per parlarvi della passione del Signore penso e spero di sì mi fermo qua non voglio aggiungere ulteriori considerazioni perché il tempo scorre impietoso e ci sono c'è ancora un po' di cammino da fare nella scoperta dolorosa di quello che Gesù ha sofferto ma partiamo dal Gezzemani partiamo perché magari i dolori fisici un po' per il film un po' per immagini scene che abbiamo sempre avuto davanti agli occhi viste così un po' perché è più facile diciamo relazionare il dolore la sofferenza al patimento fisico un po' magari sì ci abbiamo pensato ci ha colpito ma questa realtà nascosta dell'agonia spirituale del Signore se non ci fosse stata mostrata rivelata in questo modo non avremmo potuto conoscerla e quindi è importante porre attenzione su questa cosa prima ancora di tutte le sofferenze fisiche se non ci fosse stata una speciale assistenza Gesù sarebbe potuto morire in quel momento tanto fu il peso e dice Fulton Sheen anche stavo leggendo anche Fulton Sheen poi ha dovuto fare questa scelta però lui dice che per capire più o meno l'agonia di Gesù dobbiamo pensare a che cosa noi proviamo che cosa la coscienza umana prova quando pecca una coscienza dico ancora coscienza che non è oramai morta perché si è indurita a tal punto da non sentire più niente si sente mi è mai capitato tenebra terrore angoscia tristezza perché sono gli effetti del peccato allora c'è Fulton Sheen per capire un po' l'agonia di Gesù pensate a quel momento che magari voi avete sofferto o che comunque un'anima soffre moltiplicato per tutti i peccati di tutti gli uomini con tutte le conseguenze di angoscia dolore sofferenza tristezza e tutto dal primo uomo all'ultimo tutte sull'anima di Gesù in quel momento di giorno e di notte cioè non si può perciò i santi potevano soffrire così guardate ragazzi perché dicevano no non può essere per me Gesù ha fatto quello ma non è un po' di sofferenza è qualcosa di disumano non era tenuto a farlo per salvarmi per pagare quel debito che io non potevo pagare a Dio io non potevo pagare quel debito non ero capace l'ha pagato lui al posto mio cioè capite allora questo ci aiuta anche a essere un po' meno insofferenti no? nelle nostre sofferenze perché se pensiamo che è una goccia il nostro patire quello che abbiamo da patire in confronto a quello che ha patito Gesù ecco allora riprendiamo il percorso nessun dolore mi fu risparmiato non dolore della carne non dolore della mente non del cuore non dello spirito tutti li ho assaggiati di tutti mi sono nutrito di tutti dissetato fino a morirne ora è fulgida la mia umanità ma fu un giorno che fu simile a quella di un lebroso tanto era percossa e umiliata l'amore per il padre e per le creature del padre mio mi ha portato ad abbandonare il mio corpo a chi mi percoteva a offrire il mio volto a chi mi schiaffeggiava e sputacchiava a chi credeva fare opera meritoria strappandomi le chiome svellendomi la barba trapassandomi la testa con le spine rendendo complice anche la terra e i suoi frutti dei tormenti inflitti al suo salvatore slogandomi le membra scoprendo le mie ossa strappandomi le vesti e dando così alla mia purezza la più grande delle torture croci configgendomi a un legno e innalzandomi come agnello sgozzato sugli uncini di un beccaio e abbaiando intorno alla mia agonia come torma di lupi famelici che l'odore del sangue fa ancora più feroci accusato condannato ucciso tradito rinnegato venduto abbandonato anche da Dio perché su me erano i delitti che mi ero addossato reso più povero del mendico derubato da briganti perché non mi fu lasciata neppure la veste per coprire la mia livida nudità di martire non risparmiato neppure oltre la morte dall'insulto di una ferita cioè la spada la trafittura della lancia e dalle calugne dei nemici sommerso sotto il fango di tutti i vostri peccati precipitato sino in fondo al buio del dolore senza più luce del cielo che rispondessi al mio sguardo morente né voce divina che rispondessi al mio invocare estremo Isaia dice la ragione di tanto dolore veramente egli ha preso su di sé i nostri mali e ha portato i nostri dolori sì era su me la lebra dei vostri peccati infiniti era su me come una veste di penitenza come un cilicio ma come non avete visto tralucere Dio nella sua infinita carità da quella veste indossata per voi sulla sua santità bella anche questa immagine come tutti i peccati del mondo una veste cioè quindi una veste qualcosa che non apparteneva a Gesù una veste indossata sulla sua santità quindi quando Gesù si è sentito abbandonato anche dal Padre è perché ha sentito l'abbandono che meritavano i peccati di tutti gli uomini di cui era ricoperto come una veste ma l'ha sofferto lui quel dolore dell'abbandono del Padre per riscattare i nostri abbandoni e perché nei nostri abbandoni nella tristezza o disperazione del peccato potessimo avere la grazia per uscire e ritornare a Dio veramente è sceso agli inferi in questa modalità qui ancora prima di scendere agli inferi dopo la risurrezione dopo la morte la sua anima è scesa agli inferi per visitare i patriarchi i profeti che erano nel limbo è sceso veramente nel più basso del dolore per trarre noi fuori dalle nostre disperazioni da quelle che gli uomini hanno è impressionante non so se voi avete mai sentito qualcosa del genere in questo modo fosse state unicamente ferite alla mia carne ma non fu così ciò che più mi avete ferito fu il sentimento e lo spirito dell'uno e dell'altro avete fatto zimbello e bersaglio mi avete colpito nell'amicizia che avevo posto in voi attraverso Giuda nella fedeltà che speravo da voi attraverso Pietro che rinneva nella riconoscenza per i miei benefici attraverso coloro che mi gridavano muori crocifiggilo dopo che io li avevo risorti da tante malattie è pazzesco anche questo tre anni di beneficenza guarigioni miracoli demoni scacciati predicazione bellissima di grazia e tutto qual è la gratitudine muori attraverso l'amore per lo strazio inflitto a mia madre attraverso la religione dichiarandomi bestemmiatore di Dio io che per lo zeno della causa di Dio mi ero messo nelle mani dell'uomo incarnandomi patendo per tutta la vita e abbandonandomi alla ferocia umana senza dire parola o lamento sarebbe bastato un volgere di occhi per incenerire per incenerire accusatori giudici e carnefici ma ero venuto volontariamente per compiere il sacrificio e come agnello perché ero l'agnello di Dio e lo sono in eterno mi sono lasciato condurre per essere spogliato e ucciso e per fare della mia carne la vostra vita ho cominciato a morire a Betlemme nel vedere la luce della terra così angosciosamente diversa per me che ero il vivente del cielo i primi vagiti il primo legno il legno della mangiatoia che avrebbero richiamato i vagiti i pianti gli strazzi della croce sul legno della croce neanche nella nascita fu lasciato tra virgolette in santa pace tutte diciamo stare beato e tranquillo dall'inizio alla fine dall'alfa all'omega ho continuato a morire nella povertà nell'esilio nella fuga nel lavoro nell'incomprensione nella fatica nel tradimento negli affetti strappati nelle torture nelle menzogne nelle bestemmie questo ha dato l'uomo a me che venivo a riunirlo con Dio è difficile quasi continuare guardate ragazzi perché è un oceano che adesso si sta tutto riversando un oceano di malvagità tutte buttate catapultate sull'innocente su Gesù su Dio è difficile continuare ma dobbiamo farlo anima guarda il tuo salvatore il suo vestito è rosso di sangue è lacero e coperto di immondezze e di sputi il suo volto è tumefatto e stravolto il suo sguardo velato dal sangue e dal pianto e ti guarda attraverso la crosta di questi e della polvere che appesantiscono le palpebre le mie mani lo vedi sono già tutte una piaga e attendono la piaga ultima guarda dietro il mio andare restano impronte sanguigne il sudore dilava il sangue che geme dalle lacerazioni dei flagelli che ancora resta dall'agonia dell'orto sono il re del dolore abbiamo ancora delle pagine abbastanza drammatiche da scorrere soprattutto anche molto precise e dettagliate quando ci vengono dette tutte le qualche modo le realtà che hanno fatto fatire Gesù a partire da tutti gli organi umani le mani dell'uomo sono state strumenti di tortura per lui i piedi strumenti di tortura la mente con i pensieri malvagi la bocca con gli sputi e poi persino le cose inanimate ecco passiamo in rassegna quella parte lì perché è veramente veramente pazzesca la troviamo ecco qui dopo aver parlato della conelge di Gezemani sempre nel prosiego di questi scritti di queste rivelazioni appunto per chi ci crede il signore dice ora ti farò conoscere i dolori della passione in atto hai conosciuto i dolori che hanno preceduto la passione propriamente detta quella del giovedì notte in particolare ora ti farò conoscere proprio i dolori della passione in atto quei dolori che più colpiscono la vostra mente quando li meditate ma li meditate molto poco troppo poco non riflettete a quanto mi siete costati e di quale tortura è fatta la vostra salvezza voi che vi lamentate di una scorticatura di un urto contro uno spigolo di un male di capo non pensate che io ero tutto una piaga io l'uomo ho dovuto soffrire anche per le cose e dalle cose oltre che dalle persone queste le persone mi dettero insulti e sevizie le cose ne furono arma la mano che Dio aveva fatto all'uomo per distinguerlo dalle bestie la mano che Dio aveva insegnato all'uomo ad usare la mano che Dio aveva messo in rapporto con la mente rendendola esecutrice dei comandi della mente questa parte di voi così perfetta e che avrebbe dovuto avere solo carezze per il figlio di Dio dal quale aveva avuto solo carezze e guarigione se era malata si rivoltò contro il figlio di Dio e lo colpì di guanciate di pugni si armò di flagelli si fece tenaglia per strappare capelli e barba e maio per conficcare i chiodi i piedi dell'uomo che avrebbero dovuto unicamente correre svelti ad adorare il figlio di Dio furono veloci per venire a catturarmi a sospingermi e trascinarmi per le vie dai miei carnefici e per colpirmi di calci come non è lecito fare neanche con un mulo la bocca dell'uomo che avrebbe dovuto usare della parola la parola che è dote data unicamente all'uomo su tutti gli animali creati per lodare e benedire il figlio di Dio si riempì di bestemmie e menzogni e gettò questa insieme con la sua saliva contro la mia persona la mente dell'uomo quella che è la prova della sua origine celeste stancò se stessa per escogitare tormenti di un raffinato rigore l'uomo tutto l'uomo usò di se stesso nelle sue singole parti per torturare il figlio di Dio e chiamò la terra con le sue forme ad aiuto nel torturarmi fece delle pietre dei torrenti proiettili per ferirmi dei rami delle piante randelli per percuotermi della ritorta canapa laccio per trascinarmi segandomi le carni delle spine una corona di pungente fuoco al mio capo stanco dei minerali un esasperato flagello della canna uno strumento di tortura delle pietre delle strade un insidia al piede vacillante di colui che saliva morendo per morire crocifisso e alle cose della terra si unirono le cose del cielo il freddo dell'alba al mio corpo già esausto dell'agonia dell'orto il vento che esaspera le ferite il sole che aumenta arsione e febbre e porta mosche e polvere che abbacina gli occhi stanchi a cui le mani prigioniere non possono far riparo e alle cose del cielo si uniscono le fibre concesse all'uomo per rivestire la sua nudità nel cuoio che diviene flagello nella lana della veste che si attacca alle aperte piaghe dei flagelli e dà tortura di sfregamento e di lacerazione a ogni mossa coraggio siate forti ragazzi resistete resistete stasera bisogna resistere tutto 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 ha servito per tormentare il figlio di Dio egli per cui tutte le cose sono state create nell'ora in cui era l'ostia offerta a Dio ebbe tutte le cose nemiche non ha avuto sollievo il tuo Gesù da nessuna cosa come vipere inferocite tutto quanto è si volse a mordermi le carni ed accrescere il patire questo occorrerebbe pensare quando soffrite e paragonando le vostre imperfezioni alla mia perfezione e il mio dolore al vostro riconoscere che il Padre ama voi come non amò me in quell'ora ed amarlo perciò con tutti voi stessi come io l'ho amato nonostante il suo rigore un'altra pagina è diciamo collegata a questa mentre qui ci sono state descritte come tutte le realtà create a partire da tutte le parti dell'uomo fino a tutte le realtà inanimate sono servite come tortura di Cristo in un'altra pagina il Signore spiega perché ogni sua parte del corpo è stata tormentata questa parte è molto preziosa perché ci fa fare un esame di coscienza non c'è nulla che non abbia un significato nessuna sofferenza nessuna tortura fisica o morale che il Signore ha patito fu senza una specifica ragione legata ai nostri peccati quando dico nostri dico miei tuoi non quelli della persona di cui si parla male o che mezzo delinquenti o cose del genere quindi dice sempre alla Maria Valtorta Signore tu hai visto le mie sofferenze e se sono state volte a riparare le vostre colpe niente nel mio corpo è stato escluso da esse perché niente nell'uomo è esente da colpe e tutte le parti del vostro io fisico e morale sono strumenti di cui vi servite per compiere il peccato ma io sono venuto per annullare gli effetti del peccato con il mio sangue e il mio dolore lavando le vostre singole parti fisiche e morali per mondarle per renderle forti contro le tendenze colpevoli le mie mani sono state ferite e imprigionate dopo essersi stancate a portare la croce per riparare a tutti i delitti fatti dalla mano dell'uomo da quelli veri e propri di reggere e manovrare un'arma contro un fratello facendo di voi dei caini perché caino uccise il fratello no? come sapete a quelli di rubare di scrivere false accuse di fare atti contro il rispetto del vostro e dell'altrui corpo e di vagare nell'ozio in un'infingardia che è terreno propizio ai vostri vizi per le vostre illecite libertà delle mani ho fatto crocifiggere le mie inchiodandole al legno privandole di ogni moto più che illecito e necessario i piedi del vostro salvatore dopo essersi affaticati e contusi sulle pietre del mio cammino di passione sono stati trafitti immobilizzati per riparare a tutto il male che voi fate coi piedi facendo di essi il mezzo per andare ai vostri delitti forti impurità ho segnato le vie le piazze le case le scale per purificare tutte le vie le piazze le scale le case della terra da tutto il male che vi era nato sopra e dentro seminato nei secoli passati e nei secoli a venire dal vostro malvolere ubbidiente alle istigazioni di satana le mie carni si sono macchiate contuse lacerate per punire in me tutto il culto esagerato l'idolatria che voi date alla carne vostra e di chi amate per capriccio di senso o anche per affetto che in sé non è riprovevole ma che rendete tale amando un genitore un coniuge un figlio un fratello più di quanto non amiate Dio no sopra ogni amore ed ogni vincolo della terra vi è vi deve essere l'amore per il Signore Dio vostro nessuno nessun altro affetto deve essere superiore a questo amate i vostri in Dio non sopra Dio amate con tutti voi stessi Dio anche qua è forte molto forte io ho fatto delle mie carni una piaga per levare alle vostre il veleno della sensualità della impudicizia del non rispetto dell'ambizione e ammirazione per la carne destinata a tornare polvere non è col culto alla carne che si porta la carne alla bellezza e con il distacco da essa che si dà ad essa la bellezza eterna nel cielo di Dio la mia testa fu torturata da mille torture delle percosse del sole delle urla delle spine per riparare alle colpe della vostra mente superbia impazienza insopportabilità insofferenza pullulano come un fungaio nel vostro cervello io ho fatto di esso un organo un organo torturato chiuso in uno scrigno decorato di sangue per riparare a tutto ciò che sgorga dal vostro pensiero l'unica corona che ho voluto tu l'hai vista la corona che solo un pazzo o un suppliziato può portare nessuno se la impone ma io ero giudicato pazzo e pazzo soprannaturalmente divinamente pazzo ero volendo morire per voi che non mi amate o mi amate così poco volendo morire per vincere il male in voi sapendo che lo amate più di Dio ed ero in balia dell'uomo suo prigioniero suo condannato io Dio condannato dall'uomo resistete mi raccomando quante impazienze voi avete per dei non nulla quante incompatibilità per delle inezie quante insoffribilità per dei semplici malesseri ma guardate il vostro salvatore meditate cosa doveva essere quel pungere continuo ai nuovi posti quell'impigliarsi nelle ciocche dei capelli le spine no? parla delle spine quello spostarsi continuo senza dar modo di muovere il capo di appoggiarlo in nessun modo che non desse tormento ma pensate cosa erano per la mia testa torturata dolente febbrile le urla della folla le percosse sul capo il sole bruciante ma riflettete quale dolore dovevo avere nel mio povero cervello andato all'agonia del venerdì già tutto un dolore per lo sforzo subito nella sera del giovedì nel mio povero cervello al quale saliva la febbre di tutto il corpo straziato e delle intossicazioni provocate dalle torture e non è finita e nel capo gli occhi ebbero la loro parte e la sua ebbe la bocca e la sua e il naso e la sua e la sua la lingua per riparare i vostri sguardi così amanti di vedere ciò che è male e così dimentichi di cercare Dio per riparare le troppe troppo bugiarde e sporche e lussuriose parole che dite invece di usare le labbra per pregare per insegnare per confortare ebbero la sua tortura il naso e la lingua per riparare alle vostre golosità e alla vostra sensualità d'olfatto per cui pure commettete delle imperfezioni che sono terreno a più gravi colpe e delle colpe con l'avidità di cibi superflui senza pietà di chi ha fame di cibi che vi potete permettere molte volte ricorrendo a mezzi illeciti di guadagno i miei organi non furono esenti dal soffrire non uno di essi soffocazioni e tosse per i polmoni contusi dalla barbara flagellazione e resi ed ematici dalla posizione sulla croce affanno e dolore al cuore spostato e reso infermo dalla crudele flagellazione dal dolore morale che l'aveva preceduta dalla fatica della salita sotto il grave peso del legno dall'anemia consecutiva a tutto il sangue che già aveva sparso fegato con gesto milsa con gesta reni contuse e con gesta la sete quale tortura la sete non ci fu uno fra tanti che in quelle ore mi seppe dare una goccia d'acqua dalla cena in poi io non ebbi più nessun conforto e febbre sole calore polvere dissanguamento davano tanta sete al vostro salvatore tu l'hai visto che ho respinto il vino mirrato il vino con la mirra che era un'alleviante del dolore Gesù lo respinse non volevo addolcimenti al mio patire pazzesco forse non era neanche addolcimento tutto quello che soffriva ha rifiutato perché quando ci si offerti vittime bisogna essere vittime senza transazioni pietose senza compromessi senza addolcimenti occorre bere il calice così come esso è dato gustare l'aceto e il fiele sino in fondo non il vino drogato che produce intontimento del dolore mamma mia questo il soffrire del tuo Gesù nel suo corpo innocente e non ti parlo delle torture dell'affetto per mia madre e per il suo dolore ci voleva quel dolore ma per me è stato lo strazio più crudele solo il padre sa cosa ha sofferto il suo verbo nello spirito nel morale nel fisico anche la presenza della madre se è stata la cosa più desiderata dal mio cuore è stata tortura perché la vedeva e la sapeva sofferente in modo terribile allora fatemi vedere è passato un bel po' di tempo allora come si può fare concludiamo solo ecco vedete avevo in progetto di passare in rassegna brevemente qualche elemento del profilo di qualche personaggio che ci avrebbe fatto meditare però il tempo non c'è e allora io non posso chiudere questo incontro senza parlarvi della Madonna parliamo di lei anche perché magari i dolori fisici certo non quelli morali ma quelli fisici di Gesù ancora ancora potrebbero colpirci e farci capire che ha sofferto tanto ma quelli della Madonna che furono tutti interiori ci devono proprio essere svelati perché altrimenti penseremmo che certo ha sofferto noi vedremo morire il figlio e anche tantissimo perché non è morto in modo normale Gesù però ecco ha sofferto tanto ma non riusciamo a cogliere quello che ha sofferto allora lasciamoci aiutare da queste cose che il Signore dice di sua madre ella doveva essere la angelo di carne per impedire alla disperazione di assalirmi come l'angelo spirituale l'aveva impedito nel Gezzemani doveva essere la per unire il mio dolore al suo per la vostra redenzione doveva essere la per ricevere l'investitura di madre del genere umano ma vederla morire ad ogni mio fremito è stato il mio più grande dolore neppure il tradimento neppure la cognizione che il mio sacrificio sarebbe stato inutile per tanti questi due dolori che poche ore prima mi erano parsi tanto grandi da farmi sudare sangue neppure questi erano paragonabili al dolore di veder morire a ogni colpo su di me mia madre infatti lo dicono autori spirituali lo confermano questi scritti che tutto ciò che Gesù patì sia nel fisico che nel coro che nella che nel nello spirito la Madonna lo provò provò il dolore anche se non il colpo esterno questa è una cosa pazzesca ma fu così questa cosa è attestata in tutte le opere in tutti gli autori sia mistici sia dottori della chiesa tutti quanti lo dico la Madonna patì tutto perciò fu martire anche di corpo perché anche se non ci fu lo strumento fisico a darle la percossa al colpo lei lo soffrì come se gli fosse ne fosse stato dato perciò non so se più avanti lo troviamo se no ve lo anticipo adesso Gesù dice dopo il mio dolore perché era comunque un dolore da Dio cioè era un dolore con la mia umanità ma da Dio quindi è unico dopo di me non ci fu creatura mai ci sarà dall'inizio del mondo fino alla fine che ha sofferto soffrirà tanto come la Madonna in più la Madonna non ha solo sofferto come compassione ma quei dolori che lei ha sofferto sono stati uniti a quelli di Cristo per essere corredentrice cioè noi siamo veramente stati salvati non solo dalle sofferenze di Gesù ma anche da quelle di Maria a nessun'altra creatura è stato concesso questo ruolo unico cioè di essere corredentrice nel momento stesso in cui veniva compiuta la redenzione anche Giovanni ha compartecipato Giovanni discepolo dell'amore ha compassionato Gesù ma le sue sofferenze di compassione non sono state corredentive solo quelle di Maria lo furono perciò quanto dobbiamo meditando la passione di Gesù di Maria essere conquistati dall'amore per Gesù e per Maria perché insieme hanno voluto offrirsi e soffrire per salvarci tu lo hai visto come è stata grande Maria in quell'ora lo strazio non le ha impedito d'essere forte ben più di Giuditta che è stata un'eroina no? nell'antico testamento ma dice la Madonna più di Giuditta questa cioè Giuditta ha ucciso quella cioè Maria si è fatta uccidere attraverso la sua creatura e non ha imprecato non ha odiato ha pregato ha amato ha obbedito madre sempre sino a pensare fra quelle torture che il suo Gesù aveva bisogno del suo velo virginale sulle sue carni innocenti per difesa del suo pudore la Madonna le mise mise al Signore la protezione con la piccola copertura perché fu spogliato delle vesti ella ha saputo essere nel contempo figlia del Padre dei Cieli e ubbidire alla sua tremenda volontà di quell'ora non ha imprecato non si è ribellata né a Dio né agli uomini ha perdonato a questi ha detto fiat a quello cioè a Dio non urla per il suo cuore spezzato ma per il mio trafitto quando Gesù ricevette la lanciata e dicono gli autori spirituali i mistici che quella lancia che non poté far male a Gesù perché oramai era morto trafisse il suo cuore ma lei non urla non urla per il suo cuore spezzato ma per il mio trafitto di questo chiede ragione al Padre non del suo dolore chiede ragione al Padre in nome del loro figlio chiede ragione di quella ferita le altre dovevano essere date ma questa quando tutto era stato compiuto perché povera mamma vi è stato un perché che il tuo dolore non ti ha permesso di leggere sulla mia ferita ed è stato che gli uomini vedessero il cuore di Dio mamma mia questa cosa dopo questa cosa ghiacciante ci si potrebbe anche fermare rimangono giusto un paio di capoversi però ve la ripeto perché quel colpo di lancia che ha trafitto il cuore di Maria quanto è costato a Maria che gli uomini vedessero il cuore di Dio perché noi potessimo vedere il cuore di Dio la Madonna ha dovuto soffrire perché Gesù era già morto e non poteva più soffrirne povera mamma vi è stato un perché che il tuo dolore non ti ha permesso di leggere sulla mia ferita ed è stato che gli uomini vedessero il cuore di Dio ma lo vedi Maria nonostante non veda in quel momento le soprannaturali ragioni di quella ferita pensa subito che essa non mi ha fatto male e benedice Dio che quella ferita faccia tanto male a lei povera mamma ella non se ne cura non ha fatto male a me e ciò le basta e le serve per benedire Dio che gli mora chiede unicamente un po' di conforto per non morire è necessaria la chiesa nascente di cui è stata creata madre poche ore innanzi la chiesa come un neonato ha bisogno di cure e di latte materno Maria lo darà alla chiesa sorreggendo gli apostoli parlando ad essi del salvatore pregando per lei ma come lo potrebbe se morisse questa sera la chiesa che ha pochi più giorni per rimanere senza il suo capo fra essa rimarrebbe offana del tutto se anche la madre ispirasse e la sorte dei neonati offani è sempre precaria Dio non delude mai una giusta preghiera e conforta i suoi figli che sperano in lui Maria lo prova nel conforto della Veronica ella la povera mamma ha stampato negli occhi le figge del mio volto spento non può resistere a quella vista non è più il suo Gesù quello invecchiato gonfiato con gli occhi chiusi che non la guardano con la bocca contorta che non le parla e sorride ma ecco un volto che è di Gesù vivo doloroso ferito ma vivo ancora ecco il suo sguardo che la guarda la sua bocca che pardica mamma ecco il suo sorriso che la saluta ancora allora cari ragazzi e ragazze penso che questa sia stata una vera penitenza sia stata molto probabilmente la conferenza più dura da ascoltare in assoluto di tutte quelle fatte finora ma non poteva essere diversamente come avete visto ho parlato ben poco io ho cercato di dare parola soprattutto a per chi ci crede nostro Signore perché le cose che vengono dette in questi testi si fa fatica a non pensare che provengano realmente dalla bocca del Signore e pensate che la parola non è in grado di esprimere tutto certo questo modo di parlare è stato molto penetrante ed efficace eppure ancora non è in grado di dire tutto l'orrore della sofferenza tremenda che Gesù e la Madonna hanno dovuto soffrire per noi io penso che davanti a questa realtà della Passione di Cristo meditata bene riflettendoci bene nessun cuore che sia ancora cuore che non sia diventato già pietra che non sia una ferraglia arrugginita possa rimanere indifferente io penso davvero che ancora più di tutte le spiegazioni sulla che devo dire sulla morale su perché una cosa va fatta su perché non va fatta eccetera eccetera pure giusto nel senso importante avere la formazione sia dottrinale che morale ma nulla di più che la meditazione accorata della passione del Signore ci può tenere lontani dal peccato soprattutto da quei peccati verso i quali siamo più inclinati nulla più della meditazione sulla passione di Gesù e la compassione di Maria può aiutarci a desiderare la santità vera la santità fatta di eroismi nel praticare la virtù di eroismi nel pregare nell'attingere grazie dei sacramenti anche quando siamo stanchi quando non sentiamo la spinta spirituale a farlo ma perché vogliamo aderire sempre di più a Dio alla sua vita divina e amarlo sempre di più in un modo che sia più simile possibile a quello con cui luci amati il mio consiglio è di certo farvi aiutare dalle cose ascoltate questa sera ma non lasciar trascorrere in modo così direi inattivo le prossime ore perché iniziano proprio i tre giorni il triduo sacro e quindi fate il possibile tutto quello che è nelle vostre possibilità per entrare sempre di più nel mistero della passione morte di Gesù e insieme alla meditazione chiedete chiediamo la grazia a Gesù e Maria di trasformarci mente e cuore purificarci completamente come il sangue e le lacrime che cadano su di noi sulla nostra anima sui nostri cuori che li purifichino li alleggeriscano li ammorbidiscano e li facciano sempre più capaci di amarli e di amare il nostro prossimo per amor di Dio siano lodati i sacri cuori di Gesù e Maria nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo amén di Gesù Grazie a tutti.